Musica Nemmeno il maltempo di giovedì sera scorso ha scoraggiato i numerosi fedeli che si sono ritrovati nel pieno rispetto dell'enorme anticontagio nella piazzetta antistante il convento di San Leone Magno per la celebrazione della messa in onore di San Pio da Pietrelcina e da chiusura del periodo di festeggiamenti organizzati dalla chiesa bitontina. Una festa sempre molto sentita nella nostra città e che comunque richiama anche numerosi fedeli dalle città viciniori. Padre Pio è stato un uomo di Dio e un uomo del prossimo. Queste le parole di padre Pietro scandite durante l'omelia che ha sottolineato quanto il frate delle stimate sia stato sempre al centro dell'attenzione e soprattutto a disposizione della preghiera e all'accoglienza degli oppressi. Un accorato discorso carico di commozione ed emozione nella quale ancora una volta ha voluto sottolineare come la nostra fede sull'insegnamento del frate Capuccino sia una fede fragile e debole perché non abbiamo la capacità di andare al di là di quello che veramente si mostra davanti ai nostri occhi. Noi tutti abbiamo conosciuto la figura di padre Pio facendo sempre riferimento a San Giovanni Rotondo come locus ma in queste giornate di festa il convento ha cercato di evidenziare la figura del santo con precisi riferimenti alla sua città natale Pietrelcina. E lo ha fatto anche nel suo chiostro con la ricostruzione fedele della sua casa e dalla chiesa dove ricevette le sue prime stimate invisibili. Una mostra che fra l'altro sarà ancora visibile fino al 4 di ottobre. A chiudere la giornata di festa il momento musicale è stato affidato alla grande orchestra italiana diretta dal maestro Simone Mezzapesa che ha ripercorso la carriera eccelsa del grande compositore Ennio Morricone recentemente scomparso con un mix di tutte le più belle colonne sonore da film che hanno fatto da sfondo alla dolce figura della statua di padre Pio presente in piazza. Grazie a tutti.